L'autismo è un disturbo del neurosviluppo. È caratterizzato dalla classica triade, difficoltà di comunicazione verbale e anche di comunicazione non verbale, quindi non linguistica, inoltre difficoltà nelle relazioni sociali ed infine uno scarso, un ristretto repertorio di attività e di interessi, con ripetizione invece dello stesso interesse e dello stesso tipo di attività. L'autismo può rendere molto difficile l'inserimento in ambito gruppale insieme agli amici, insieme ai compagni di classe, di scuola e anche l'inserimento scolastico stesso e l'autonomia del bambino stesso. Pertanto è importante valutare l'autismo, fare una corretta diagnosi e soprattutto riabilitare il bambino autistico in modo tale da avere delle buone competenze sociali, relazionali e comunicative e una buona serenità interiore. Con questo ti saluto e ti aspetto al nostro corso. Ciao e alla prossima!